40 anni dell'Ambrosetti Forum, lei cosa dice? Quale sono le impressioni e soprattutto qual è il valore di un summit di questo genere? Personalmente ho sempre creduto che questo incontro sia un incontro soprattutto internazionale e è sempre diventato in questi ultimi anni sempre più globale. E credo che questo salto di cultura soprattutto in Italia dove abbiamo prevalentemente un mondo dell'imprenditoria che rappresenta piccole imprese quindi con aziende che sono abituate ad operare o a livello nazionale o al massimo a livello europeo che sia un salto di qualità necessaria. E questo siccome si parla appunto di problematiche globali o internazionali è la ragione che credo sia sempre più attiri anche uomini politici e non solo italiani. Abbiamo visto fior di senatori americani, fior di senatori tedeschi e quindi credo che questo sia il segno della qualità che rappresenta oggi l'Ambrosetti. Farebbe bene, credo molto bene anche un po' più a qualche politico italiano che magari nel mondo industriale conosce un pochettino meno e quindi credo che sarebbe una bella esperienza così come per noi imprenditori che veniamo per aggiornarci e per sentire l'utilità di questi confronti a livello globale. Grazie a tutti.